l'8229 questa è la collezione dei foglietti di vaticano cosa atipica molto interessante vedete questa qua perché il collezionista ci metteva sempre sopra il pergamino però si riesce a vedere cosa c'è di sotto si parte al foglietto centenari san nicola sono tutti interi musei vaticani cappella sistina questi cosa non provenienti dai libretti vedo questi sono provenienti dai libretti collezione decisamente inusuale provenienti dai libretti questo è il pro terremotati sovrastampato i mini fogli dei papi se volete altri video o informazioni scrivete a filatelli a chiocciola 4 bei occhi puntocom